...della valle che noi conosciamo, molto, molto meno. Caroway contro Polanaro, subito fuori da Cali, che ha un bacio, pareva, c'è un fatto, c'è di una stoppa... ...questa gara... Ragazzi, andiamo a cercare Rautin, da qualche parte sarà, andiamo a cercare Rautin, da qualche parte sarà. Unidin nasconde l'arancia, Fabio Miano, la finta di Rautin che parte, poi bellissimo il passaggio. Unidin è effettuata la rimessa per Cuba di Ovarà, che poi non torna al polvere, come lo stesso tempo viene letteralmente murato.